Ciao a tutti, come conquistare un uomo con la femminilità? In questo video voglio spiegarti come conquistare un uomo con la femminilità, come essere femminile e come conquistare un uomo utilizzando la femminilità. Questo è veramente importante e fondamentale. Prima di affrontare questo tema però, iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco, seguimi anche su TikTok, sono anche su TikTok, e ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare, ci sono diversi livelli di abbonamento, vatti a abbonare. Cioè, no, qui c'è veramente un livello di abbonamento che è l'abbonamento a farmi delle domande. Quindi se ti abboni potrai farmi delle domande e io risponderò a queste domande in apposite live. Quindi abbonarsi è facile, basta andare nella home page, tastino abbonati, che sta vicino al tastino iscriviti, e lo selezioni. Se non lo vedi con l'app del cellulare, vedi col computer. Allora, veniamo al tema come conquistare un uomo con la femminilità. Allora, la femminilità è fondamentale per attrarre un uomo. Poi dopo va inserita in tutto un contesto di strategie di seduzione, di cui ho già parlato in diversi video. Magari approfondirò ancora, ma ci sono tanti video. Se vai a curiosare su questo canale, ma anche sul canale Massimo Terramasco, sul canale Felicità e Benessere, troverai diversi video che comprendono un po' a livello macro le strategie di seduzione, entro le quali va inserita anche la femminilità. Tra l'altro se ti iscrivi a tutti e quattro i miei canali, che sono questo, crescita personale, Massimo Terramasco, Felicità, Benessere, Amore, Autostima, riuscirai a, potrai partecipare, entrerai a far parte della più grande community italiana per quanto riguarda l'amore e la seduzione, e entrerai, diciamo, a far parte anche di gruppi, volendo, dove potrai conoscere persone, chattare, eccetera. Quindi questo è fondamentale. Allora, veniamo a come conquistare un uomo con la femminilità. Quindi la femminilità è fondamentale per attrarre un uomo. Però qua spesso le donne fanno un grave errore, fanno una grande confusione, confondono la femminilità con l'essere provocante. Non è così. La femminilità non vuol dire essere provocante, la femminilità non vuol dire essere volgare, ma neanche essere provocante. Adesso poi ti darò delle indicazioni precise su cosa fare per essere femminile. Però dentro di te, perché poi la femminilità non è soltanto la parte legata all'abbigliamento. Però l'abbigliamento, diciamo, che fa parte della femminilità. Quindi come ti vesti fa parte della femminilità o meno. Ti darò alcune indicazioni di massima. Però la domanda che devi porti è questa. Se sono conciata in questo modo, come ti sei conciata? Cioè con quell'abbigliamento, quel make-up, qualcosa lì. Lui mi presenterebbe alla madre? Se la tua risposta è no, se in cuor tuo ti senti dire no, così non mi presenterebbe, vuol dire che quello lì non è l'abbigliamento che tu devi utilizzare. Perché è un abbigliamento che diventa sconveniente, sfocia nella cosa opposta. Innesca sicuramente meccanismi di difesa. Perché se tu... Qui parliamo di una donna che vuole attraere un uomo per crearsi una relazione, che vuole attraere un uomo per avere una storia a lungo termine e quindi sembrare essere, diciamo, una donna di qualità, che vuole attraere anche un uomo di qualità. Quindi questo non va bene. Allora, come deve essere? Quindi vediamo la parte dell'abbigliamento, che comunque è fondamentale. Poi vediamo anche le altre cose che fanno la femminità. L'abbigliamento femminile deve essere femminile. Quindi l'ideale è un tubino nero, per esempio, poi possono essere vestiti, possono essere altre cose. Comunque, che sia sopra il ginocchio, sì, ma non molto sopra il ginocchio. La scarpa deve essere una scarpa con un tacco, magari un tacco 10, ma una scarpa sobria. Non lo zatterone, che sembri una che va sulla via Oreglia all'angolo, con la via Cassia, diciamo. Cioè, non quelli zatteroni così. Quelli non sono femminili. Sono il bacio della morte, della femminità. Sono il canto del cigno della femminità. Lo zatterone non va bene. E neanche la scarpa fetisci, la scarpa sadomaso, con le borchie, le cose, i lacci, i laccetti. Quello non va bene. Non ti presenterebbe mai sua madre con un conciato in quel modo lì. E questo è fondamentale. La gonna, il vestitino deve avere una gonna, diciamo, che deve essere sopra il ginocchio, corta, ma non una minigonna al pelo. Perché anche lì, quello non va bene. Cioè, se vuoi essere femminile, e no, perché sarai provocante, ma inneschi tutta una serie di meccanismi di difesa. Poi, diciamo, deve essere una calza che dà un valore alla tua gamba, quindi una calza velata. Meglio che non quei calzettoni scuri, cose. Cioè, un qualcosa che valorizzi. E il décolleté ci deve essere, ma non deve essere un décolleté, diciamo, deve essere una roba sobria, anche qua. Cioè, non è che devi manifestare, anche magari un po' più accollato, ma, insomma, magari anche un po' tillato. Insomma, deve essere un qualcosa che piace, ma non deve essere squalificato. Poniti questa domanda. Mi presenterebbe a sua madre in queste condizioni, conciate così come sono? Stesso discorso vale per il make-up. Non deve diventare una maschera da carnevale, rossettoni, labbroni, cose. Perché anche lì la domanda è sempre quella. Mi presenterebbe a sua madre? Stesso discorso per il profumo. Il profumo non è che devi farlo svenire con un profumo nauseabondo. Quindi, un po' di profumo sì, ma, come dire, non esagerato. Poco. E di qualità, perché comunque si percepisce. Il make-up deve essere il giusto. Anche qua le statistiche dicono che il make-up quando è eccessivo attrae di meno. Meglio non averne a quel punto lì. O comunque averne nel, diciamo, nella quantità giusta. Ecco, questo è importante. E questo è molto importante. Poi ci sono due cose che devi, due o tre cose che devi fare se vuoi essere femminile. Allora, il sorriso è fondamentale. devi imparare a sorridere. Deve avere, sorridere con gli occhi. Il sorriso è basilare, è fondamentale. La capacità di flertare, quindi la capacità di guardare negli occhi, magari anche in modo un po' malizioso. Lo sguardo. Non guardare così, ma lo sguardo è fondamentale. Anche il linguaggio del corpo è basilare. Per quanto riguarda la donna, ci sono due situazioni fondamentali che devi tenere presente che fanno la tua femminità. Sono come cammini e come stai seduta. Allora, camminare devi, dovresti, non fare i passi eccessivamente lunghi, non devi sembrare un bersagliere, perché puoi essere vestita tutta a puntino, ma cammini con un bersagliere, questo ti fa decadere completamente la femminità. A differenza dell'uomo, che magari può camminare un po' a gambe larghe, la donna deve camminare a gambe strette con le caviglie che si sfiorano. Le punte non devono essere a 10 e 10, devono essere più o meno dritte, leggermente magari divericate e mai così. Quindi con le caviglie che si sfiorano leggermente, il passo non deve essere un passo eccessivamente lungo e anche giante un pochettino. Questa è una camminata femminile. Stare seduta, devi stare seduta, accavallare sempre le gambe, mai stare con le gambe, se stai con le gambe unite, le ginocchia devono essere attaccate, ma è anche, diciamo, le caviglie. Però è molto più elegante una donna con le gambe cavallate che la cavalla nel modo giusto, senza fare scosciamenti estremi quando a cavallo o non a cavalla. Quindi questo è importante per essere una donna elegante, per essere una donna di classe, femminile ma di classe. E devi prenderti cura anche del linguaggio del corpo. Anche prendersi cura del linguaggio del corpo è fondamentale, non devi apparire nervosa, piena di ticche. Cioè il linguaggio del corpo deve essere armonioso, deve essere solidale, diciamo, non devi manifestare nervosismo, tensione, perché questo è il contrario della femminilità. Una donna deve essere più morbida. Sei donna, sei madre, o diventerai, insomma. Comunque, devi essere materna. I gesti devono essere la carezza, la coccola, la morbidezza. e la durezza, la mascolinità, è più maschio. Cioè quindi, la comunicazione non verbale ti fa, ti dà tanto, cioè ti fa capire tanto quanto una donna è femminile. Una donna che ha gesti duri, rigidi, una comunicazione non verbale rigida, dura, è mascolina, viene percepita come mascolina, che è il contrario della femminilità. Quindi tu devi imparare a gestire, da questo punto di vista, la femminilità, quindi essere morbida nei movimenti. È veramente importante, è veramente fondamentale se tu riesci a fare questo, beh, otterrai dei grandi benefici, ma devi imparare, diciamo, questo tipo di linguaggio non verbale. È fondamentale. E poi, una volta che tu hai fatto questo, devi anche qua, da un punto di vista proprio di linguaggio non verbale, non dimostrare un eccessivo interesse, perché, come dire, meglio sempre che vai un po' indietro, che mantiene un pochino le distanze, no? Quando lui si avvicina, ti allontani un pochettino, perché analogicamente devi mettere in atto un fatto che sia lui a inseguirti. Ecco, in questo modo riuscirai a essere femminile ed è un punto centrale, fondamentale per la seduzione e per la conquista. Quindi allenati su questo. Bisogna allenarsi. Se non l'hai imparato naturalmente, ti devi allenare, ma puoi allenarti ed è veramente un fatto fondamentale per la seduzione. Bene, per questo video è tutto. Se ti è piaciuto, metti un like, iscriviti al canale e seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco, seguimi anche su TikTok. Ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare e abbonandoti potrai farmi delle domande in apposite live alle quali darò delle risposte precise. Ciao a tutti.